San Stanislao di Gesù Maria e Santa Maria Elisabetta Esselblad. Due storie per due vite diverse ma consacrate alla stessa fede perché entrambi, ha detto Papa Francesco, sono rimasti intimamente uniti alla passione di Gesù e in loro si è manifestata la potenza della sua resurrezione. Stanislao di Gesù Maria, diventato sacerdote a 30 anni, lasciò l'ordine dei padri scolopi per fondare quello dei chierici mariani dell'Immacolata Concezione della Vergine Maria, ben 200 anni prima dell'istituzione del dogma. Sacerdote miracoloso e teologo, San Stanislao ha vissuto predicando il Vangelo e i ministeri della fede, specialmente presso le popolazioni rurali, in epoca di guerre e di peste. Nell'attualità del santo e della sua vittoria sul dolore e sulla morte parliamo con padre Andrei Pacula, superiore generale dei chierici mariani. Santo Stanislao dalla sua giovinezza era segnato dal mistero Pasquale, cioè da questo passaggio dalla morte alla vita. Come adolescente era quasi morto a causa della peste, poi aveva grossi problemi ad entrare nella congregazione degli scolopi perché la famiglia era contraria, ha sofferto tantissimo e le chiama questo tempo come tempo di martirio proprio. Allora questa immagine del mistero Pasquale, cioè vittoria di Dio sulla morte, si inserisce perfettamente nella biografia di questo santo. Santo tanto sconosciuto, dire la verità in tanti paesi perché 300 anni fa ha vissuto, però ha tanto da dire per cristiano anche odierno. Diversa è la storia di Santa Maria Elisabetta Esselblad, ragazza svedese nata nel 1870 da una famiglia luterana. Nel corso dei suoi studi infermieristici la giovane assiste a una cattolica irlandese morente e si incuriosisce sulla sua fede, distante da quella luterana soprattutto per la sua devozione alla Madonna. Al termine del suo percorso di conversione si trasferisce a Roma e fonda l'Ordine del Santissimo Salvatore di Santa Brigida, le suore note come religiose brigidine. Impegnata durante la Seconda Guerra Mondiale ad assistere gli ebrei perseguitati ai più poveri, che trovavano riparo proprio nella casa di Santa Brigida a Piazza Farnese, morì a Roma nel 1957 dopo una lunga malattia. Con noi, Suor Maria Barriga Mondragon, postulatrice delle suore brigidine. Per Madre Elisabetta il suo messaggio è molto attuale per tutto il mondo, soprattutto perché lei è stata una persona molto coerente con se stessa, con la sua fede, ha saputo trovare Dio in ogni momento della sua vita. Soprattutto una cosa molto impressionante è che lei ancora non cattolica ha saputo trovare Dio. nei più poveri sono stati loro il mezzo per poter entrare nella Chiesa Cattolica. Io posso dire che ho avuto la gioia di conoscere tante sorelle anziane che hanno avuto questa gioia di essere formate dalla nostra madre Elisabetta. Erano persone così belle che anche se con tanti di anima, sempre era un sorriso, sempre una carità verso gli altri, fino alla fine, senza pensare ma incestezze. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.